Un pretino di campagna che nel 1939 venne mandato in una capellania sperduta, quella di Villa Gardossi, Crassizza. Là si trovò a comporre un gruppo di fedeli, era un amico di tutti, aiutava tutti. Don Bonifacio divenne un punto di riferimento dopo l'otto a stermo del 1943, nel momento critico per l'Italia. Una macchia rossa a evidenziare in mezzo a tanti nomi di persone infoibate, quello di Don Francesco Bonifacio. È dedicata alla figura del giovane prete nativo di Pirano, tanto benvoluto dalla comunità dei fedeli, cappellano a Cittanova e Villa Gardossi e scomparso nel nulla l'11 settembre 1946, la mostra allestita a cura dell'IRCI nel Museo della Civiltà Estriana Fiumana e Dalmata di Via Torino, in occasione del giorno del ricordo. Dopo aver fatto il sestato nel paese di Grisignana dal suo confratello Don Pino Rocco a fare la confessione, in quella sera Don Pino Rocco lo accompagnò per un pezzo, che lui ritornava a Villa Gardossi e quando si incamminò da solo venne fermato da due guardie del popolo, prelevato, portato via e poi di lui non abbiamo saputo più nulla. Quest'anno ricorrono i dieci anni dalla consacrazione a Beato del martire in odium fidei Don Francesco Bonifacio. Non a caso la mostra è intitolata In nome di Dio al servizio del popolo. In collaborazione con Mario Ravalico e l'azione cattolica è stata ricostruita la storia del sacerdote attraverso oggetti che gli appartenevano. Tra questi anche il libro di preghiere che era scomparso con lui e che ricomparve misteriosamente dieci anni dopo. Anche il libro di preghiere che aveva in mano quella sera quando fu portato via e che era scomparso quel giorno e che misteriosamente ricomparve dieci anni dopo, nel 1956, qualcuno lo portò alla povera mamma di Don Bonifacio.